E' l'ex deputato Nicola Crisci, il coordinatore provinciale della mozione Franceschini nel PD di Teramo. A sostenerlo, oltre all'onorevole Tommaso Ginobile, il consigliere regionale Peppino Di Luca e provinciale Sottanelli, diversi sindaci di comuni teramani, Alba, Colonnella, Castelli, Cortino, Torano, Tossicia, Valle Castellana. Una scelta di garanzia, spiega Di Luca, per un uomo di esperienze che è stato sempre al centro della politica in provincia. Una figura di coagulo, secondo l'onorevole Ginobile, capace già di creare a Roseto il centro-sinistra. Il lavoro sarà quello di accompagnare il Partito Democratico nella stagione congressuale, che vedrà come prima tappa fondamentale quella del 25 ottobre, con l'elezione dei segretari nazionali e regionali, e a gennaio di quelli provinciali, e di limare quei difetti che hanno caratterizzato la nascita del PD. Crisci ha accettato con spirito di servizio e continuando a seguire l'esempio dell'ex segretario dei DS, Piero Fassino, anche lui sostenitore della mozione Franceschini. C'è la necessità di costruire un partito di opposizione oggi forte e rappresentativo, di stampo europeo, che sappia porsi credibilmente come forza di governo. Per farlo, domani del 25 ottobre, questa competizione democratica dovrà vedere, al di là degli esiti, tutti i dirigenti e tutti i militanti, e soprattutto le forze nuove che verranno in questo partito impegnate nella costruzione giorno per giorno di una proposta di opposizione e di una proposta di futuro governo. Ad alimentare il dibattito e il confronto nel PD sarà la presenza a Teramo proprio di Piero Fassino il prossimo 24 settembre.